ciao a tutti oggi verifica massa terra in ufficio con marco colombo venuto apposta da quindi non proprio dietro iniziamo a fare due o tre prove e poi vi faccio spiegare che cosa sta facendo adesso faccio una prova di continuità adesso prova pozzetto ben castigo prova pozzetto sotto la bea tac troverà qualche briciola di brioche di sicuro verificare che tutte le masse siano collegate io voglio che lo direte pronto per dell'armadio rack sotto gli UBS questa la prova comunque la prova di continuità tra la corda di rame che ho trovato il quadro e il dispersore che è questa super punta di rame che va in terra che non so quanto andrà giù però almeno metro sì perché si l'aveva messa anche abbastanza grossa un po più sovradimensionata visto al laboratorio SD e qua comunque vediamo che arriva anche la corda bene prova terminata esito positivo esito positivissimo ok per chi non sapesse che cosa è cioè cosa serve sto test praticamente serve per verificare la protezione dei contatti indiretti per l'impianto dell'azienda così almeno tutto sommato provi anche tutti i differenziali e cose che se succedesse qualcosa è tutto testiamo l'efficienza delle protezioni differenziali e la continuità del conduttore di protezione ogni quanti anni da fare nel vostro caso ogni cinque anni a perché cambia d'azienda ok 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 quindi tutto a posto e siamo in reo ottimo ci rivediamo magari prima però per la prova tra cinque anni ok ciao